La cultura sembra essere per la città di Modica il suo fanalino di coda. Non si è candidata infatti alla possibilità di divenire capitale della cultura italiana per il 2020, che diventa la sua occasione mancata. Una pecca, un'occasione perduta, se si prendono in considerazione gli effetti positivi che l'essere capitale della cultura italiana ha avuto per Palermo, selezionata per il 2018. L'essere simbolo della cultura nazionale significherebbe infatti mettere in rilievo e valorizzare tutto il patrimonio storico e culturale che contrastegna il territorio ed in particolare la città. Significherebbe lavorare per un anno ad un progetto di qualità e di spessore che avrebbe sicuramente un ritorno in termini di presenza e valore turistico. Un progetto dunque che se selezionati sarebbe potuto essere una vetrina per la Contea, in quanto avrebbe esposto il suo valore culturale non solo. Ma per essere così avrebbe dovuto candidarsi e concorrere per provare ad avere riconosciuta la qualificazione. Invece per la Sicilia si sono presentate solo a Grigento, Catania, Messina, Noto, Siracusa e Ragusa. Queste di fatti hanno presentato un dossier ciascuna che verranno esaminati entro l'anno prossimo. Non si pronunciano nell'amministrazione e negli operatori turistici. Infatti Francesco Frasca Polara, presidente del Consorzio degli Operatori Turistici, di fronte alle candidature della città UNESCO e da Modica Vicine, ha asserito di non avere avuto occasione di occuparsi della questione con gli operatori e con chi di dovere e di discutere sulla possibile candidatura. Ha poi continuato dichiarando che nonostante la notizia della scadenza del termine di presentazione, il silenzio e merito è persistito. Dissenso viene mostrato anche da alcuni membri del Consiglio Comunale, che si chiedono se la non candidatura sia oggetto di una svista o di una scelta ponderata dell'ente. Era una possibilità per far crescere la città sotto diversi punti di vista, dalla cultura all'economia al turismo. Poteva essere un investimento per il futuro. Grazie a tutti.